ciao cinefusi.it oggi vi parlo del film romantiche questo film ha una particolarità interessante e che mi rende anche un po orgogliosa se vogliamo infatti è un film scritto diretto ed interpretato da una donna e da una giovane donna da Pilar Fogliati che forse molti di voi conosceranno appunto come attrice quindi per esempio per la serie Cuori o anche per il film accanto a Pierfrancesco Favino e Miriam Leone Corro da te e questo è un film distribuito e prodotto da Indiana e da Vision Distribution ed è una commedia molto molto interessante e molto divertente è una commedia che strizza l'occhio proprio alla classica commedia all'italiana in particolar modo come ha detto anche in conferenza stampa Pilar Fogliati stessa forse in qualche modo c'è lo zampino di Carlo Verdone che è stato che lei è stato di ispirazione proprio perché lei ha dichiarato di essere cresciuta appunto avendo visto tutti i film di Carlo Verdone infatti si tratta di un film in cui Pilar Fogliati che appunto è anche sceneggiatrice interpreta quattro personaggi femminili quattro personaggi femminili molto diversi ma che hanno anche un un filo conduttore diciamo tra loro quello di credere nei sogni credere nei propri sogni e diciamo Pilar Fogliati riesce a tratteggiare dei personaggi in maniera veramente molto acuta e molto intelligente si capisce perfettamente che è una brava osservatrice per le musiche del film ha voluto un'altra donna che è Levante che interpreta anche una una piccola parte nel film e poi altre due attrici che si fanno notare per la loro bravura sono Barbara Bobulova e Diane Fleury in particolare Barbara Bobulova che interpreta una psicanalista interpreta proprio il ruolo che che incarna l'espediente narrativo che Pilar Fogliati ha voluto utilizzare per comporre questo film che non è un vero e proprio film ad episodi ma che racconta appunto con diverse sfaccettature ognuno di queste tipologie di donne allora una si chiama Eugenia Pratico ed è un'aspirante sceneggiatrice che viene a Roma con appunto le migliori intenzioni di sfondare nel mondo del cinema e trova ovviamente purtroppo molte difficoltà nel farlo proponendo continuamente queste sue sceneggiature a manca senza grandissimi risultati finché no anzi non vi dico finché perché altrimenti vi rovinerei una parte del film poi c'è la uvetta budini che è un esponente diciamo di una nobiltà un po' decaduta un po' che vive ancora in un castello ma questo castello è da ristrutturare quindi un certo tipo di di nobiltà che comunque esiste e che ha anche delle particolarità in particolare uvetta sperimenterà diciamo il lavoro manuale rimanendone quasi estasiata l'altro personaggio è Michela una ragazza di guidonia e che è una ragazza a differenza forse delle altre un po' più semplice con una storia d'amore molto tradizionale e che si deve appunto sposare col suo storico fidanzato e poi la quarta la quarta protagonista è Tazia sempre interpretata appunto da Pilar Fogliati che è quella che rappresenta un po' un po' di più la donna diciamo è la cosiddetta pariolina insomma per chi è di Roma è facilmente identificabile con con questa diciamo accezione con questa terminologia che indica un un certo tipo di di ceto sociale diciamo che appunto di sono gli abitanti dei parioli e in particolare questa ragazza con le sue amiche benestanti che elargisce a tutti i consigli su come trattare i propri uomini e nella nella conferenza stampa Pilar Fogliati ha proprio detto che ha affidato poi un messaggio invece di empowerment femminile proprio a questo personaggio perché sarebbe stato più scontato farlo con il personaggio di Eugenia Praticò che più si prestava a questo tipo di profilo invece ha voluto mostrare proprio la trasformazione di questi personaggi accanto a tutte queste donne ovviamente ci sono anche degli uomini anche molto bravi in particolare spicca il cameo di Rodolfo Laganà che è sempre molto simpatico e riempie sempre lo schermo con la sua presenza e la sua capacità di attore è un film che sicuramente vi consiglio di vedere perché è una commedia veramente divertente sottilmente ironica soprattutto scritta diretta e interpretata da una donna e questo mi piace veramente sottolinearlo anche se nella scrittura c'è un po' lo zampino di Giovanni Veronesi però l'idea e i personaggi sono sicuramente tutti di Pilar Fogliati che scopriamo essere una bravissima sia regista ma soprattutto sceneggiatrice io ho trovato che i suoi personaggi sono veramente interessanti sono veramente sfaccettati e soprattutto anche divertenti e lei ha una capacità interpretativa veramente straordinaria quindi sicuramente vi consiglio di andare a vedere questo film che uscirà nelle sale prossimamente il 23 febbraio e sicuramente passerete una bella serata e poi vi rimarranno anche delle sensazioni e la voglia di pensare diciamo a questi personaggi forse anche di confrontarli con qualcuno che si conosce con qualche donna che si conosce veramente complimenti ancora a Pilar Fogliati e se vi è piaciuto questo video mettete mi piace alla pagina youtube di cinefusi.it alla pagina instagram o la pagina facebook o meglio al canale youtube e se vi volete iscrivere anzi al canale youtube di cinefusi noi saremmo veramente felici e vi auguro una buona serata e una buona visione a Pilar Fogliati